Gentili telespettatori, buona giornata. La fidanzata di Berlusconi, Fascina, difende Salvini. E ci sono otto minuti di silenzio, ha parlato la fidanzata del capo. E così la fidanzata, Fascina, parlamentare di Forza Italia, si scaglia contro Brunetta e i governisti quella parte di Forza Italia che non può vedere Salvini, neanche in fotografia. C'è una parte consistente di Forza Italia che di Salvini non ne vuole vedere neanche, l'ombra. Ma sabato sera a Villa San Martino, poco prima di cena, mostrano a Berlusconi l'agenzia di stampa in cui Renato Brunetta replica a Matteo Salvini in maniera abbastanza forte. Berlusconi scuota la testa e dice così, ma cosa gli ha preso a quello lì? A quello lì, no? Cosa gli ha preso a quello lì? Intanto che cosa è successo? Che il leader della Lega fa arrabbiare quella parte di Forza Italia che vi dicevo che è anti-Salviniana. Quella è quella parte che dice non ci faremo mai comandare dal capitano del carroccio. Salvini che cosa aveva detto? L'Italia ha bisogno di visione, bisogna guardare un po' al medio-lungo periodo. La stragrande maggioranza dei parlamentari, afferma Salvini, attualmente ha come unico orizzonte temporale il proprio collegio a marzo 2023. Ed è la verità più assoluta. Ogni tanto anche Salvini ne azzecca una. Questa che ha detto è giusta, corretta. I parlamentari stanno solo pensando a come essere rieletti. Ormai è da decenni che funziona così. Tramontata la Prima Repubblica, dove i politici si dimettevano anche per una sciocchezza. Adesso non mollano l'osso della poltrona neanche, per nessun motivo. E quando vengono eletti l'unico loro pensiero è come essere rieletti alle prossime elezioni. Quindi su questo Salvini ha proprio fatto centro. Ma subito Brunetta si era innervosito e dicendo dalla mia esperienza di questi otto mesi di governo non posso che dare un giudizio straordinariamente positivo del lavoro di tutti i parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione. Evidentemente, dice Brunetta, si preoccupano più della responsabilità nei confronti del paese che del loro seggio e di questo ne va dato atto. Non c'è nessun atto, Brunetta, non va dato atto per niente. Da quando in qua una persona pensa prima al paese che al proprio stipendio? È fuori anche dalla logica delle cose. Un parlamentare, esiste una piramide delle priorità che ognuno ha. Di solito in cima a questa priorità c'è sempre il lavoro e lo stipendio che è quello che ti permette di fare poi tutto quello che c'è sotto. Senza lo stipendio sei finito. Pertanto se Brunetta ci vuol far passare che quegli scappati di casa che ci sono in Parlamento, perché di questo stiamo parlando, quegli scappati di casa che ci sono in Parlamento pensano prima al paese che al loro seggio in Parlamento? Questa è una tavanata galattica sparata da Brunetta che probabilmente è offuscato dal fastidio che ha per Salvini e qualsiasi cosa dice Salvini non va bene. L'avesse detto Berlusconi avrebbe fatto un applauso di 92 minuti, no? E dunque Berlusconi legge le dichiarazioni di Brunetta dicendo ma cosa gli ha preso a quello lì? Al suo fianco c'è la fidanzata Marta Fascina ed è in quell'istante che lei prende l'iniziativa ed interviene nella chat dei parlamentari azzurri a difesa del capitano del carroccio. Si vede che quando si sono incontrati a Villa Grande si vede che a questa signora ha fatto simpatia Salvini, si vede sai, l'ho appena incontrato, ha detto lo difendo io il capitano, anche se con i gradi di capitano non avrebbe bisogno di essere difeso, è un alto ufficiale. E così dice Salvini ha detto una cosa corretta, dice la fidanzata. La maggior parte dei parlamentari di queste camere, che hanno il record storico per numero di volta gabbana, ha come obiettivo la fine della legislatura, la pensione che matura a settembre 2022 e la conferma del proprio seggio. Per otto lunghissimi minuti nella chat, dopo le parole della fidanzata, nessuno dice niente. La fidanzata che peraltro aveva assolutamente ragione, perché quello che ha detto Salvini è assolutamente condivisibile. Gli scappati di casa stanno pensando solo al loro stipendio. Pensate un po', questi passano da stipendio 13.000 netto o 18.000, secondo se hanno anche altri incarichi, a zero. Da 18-13 a zero. Quindi capite la frustrazione che hanno gli scappati di casa, che passano da una situazione di benestare totale, uno stipendio elevatissimo al nulla eterno. Cioè dovranno poi decidere se fare domanda al supermercato sotto casa, dicendo mi fate fare l'onorevole cassiere, oppure andare a chiedere il reddito di cittadinanza se ci sarà ancora. E secondo Brunetta questi stanno pensando al paese, questi stanno pensando a come salvarsi. Ci siamo capiti. Il primo a scrivere il messaggio è stato poi Paolo Zangrillo, il frattiello del medico del Cavalieri. Cioè, brava Marta, è esattamente quello che si vive in Parlamento. È molto triste, ma è la verità. Poi segue Andrea Mandelli. Concordo perfettamente con le giuste osservazioni di Marta. È la fidanziata del capo, è il capo che decide quali saranno ricandidati o no. Quindi tutti a lodare la fidanzata del capo. Raffaele Nevi la mette così. Secondo me è inutile far emergere una spaccatura nel centrodestra. Ci rimettiamo tutti. E poi Giorgio Moulet sostiene che accendere una polemica su un fronte dove non siamo il bersaglio equivale a sentirci chiamati in causa e non fa bene alla coalizione. Ecco, da che ce l'avevano con Salvini, adesso non fa bene alla coalizione. E così. Sulle agenzie dicono siamo gli unici a rispondere a Salvini, dice il gruppo Brunetta Garfagna Gelmini, le cui dichiarazioni non si trovano nemmeno in agenzia. Dunque posso dirlo? Ancora oggi? Come nelle elezioni del capogruppo abbiamo trovato il modo di farci male. E allora mi chiedo, chi ha interesse a dividerci? Ah, poi passano anche i complotti, no? Chi ha interesse? Stavate parlando male di Salvini? Adesso sapete che c'è la fidanzata che vi osserva? E allora cominciate a parlare di centrodestra, chi vuole dividerci? Eh? Aveva ragione la fidanzata del cavaliere che questi pensano solo a salvarsi il posto di lavoro. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.